ha veramente tanto grip davidino vediamo se ci prova qui ce li prova ancora mamma mia questa volta passa uh ci è riuscito che sorpasso bravissimo grandissimo sorpasso attenzione ancora dentro vediamo 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 all'interno qua è difficile è difficile fatto un altro il piede eh Raikkonen riesce a tenere poi prova l'incrocio attenzione questo è un gran sorpasso vediamo se riuscirà a chiuderlo puoi incrociare di nuovo Raikkonen eh la tiene questa è proprio una bella azione